C'è un uomo umbriaco fragico che cammina sul marciapiede, con piede sul marciapiede e piede giù, e cammina tutto storto. A un certo punto passa una fattuglia dalla polizia e il poliziotto lo vede, scende e gli fa così, guarda come stai umbriaco, dai che devi venire al commissariato. Lui gli fa, ma sei sicuro che sto umbriaco? Lui gli fa, stai umbriaco così, eppure parecchio. E meno male, ma che devo testa e zoppo.